Se il mio compito è quello di parlare della situazione che c'è qui in Italia sicuramente è molto diversa da quella che c'è in Francia, come ben sappiamo. Però è anche vero che credo che l'importanza di questo dibattito sia proprio anche perché non è che possiamo guardare a quello che succede in Francia o come dalle altre parti del mondo o a fare i tifosi o addirittura con un effetto depressivo per cui fanno tante lotte e qua in Italia come mai non c'è questo, non c'è quello o come siamo messi male. Io credo che sicuramente le condizioni qui sono molto diverse però anche il senso del dibattito di questa sera è proprio quello anche di capire che cosa abbiamo in comune, che cosa abbiamo di diverso ma come è possibile anche affrontare la situazione e produrre questo tipo di mobilitazione sociale. Noi come ADL Cobas da tanti anni siamo parte della rete sindacale di solidarietà e di lotta insieme con i compagni e le compagne di solidarietà e di molte altre realtà e vediamo che pur a livello mondiale ma anche assumendo lo spazio europeo vediamo che la situazione comunque è molto diversa, è molto variegata, le situazioni sono molto diverse perché effettivamente anche il tipo di governance che viene fatto rispetto alle questioni del lavoro è una questione gestita in modo molto diverso. E quindi anche i movimenti si danno in modo molto diverso. Io credo che diciamo le due cose che in qualche modo mi vengono in mente è che noi dobbiamo sicuramente fare un'analisi sulla nostra situazione, sui modelli di governance, su quello che succede. Prima parlando qualcuno diceva che qua in Italia non hanno neanche tanto bisogno di mettere alla prova le violenze poliziesche perché il livello magari dello scontro appunto è quello che è. Però sappiamo che questa cosa non è così, così come sappiamo che purtroppo anche i cosiddetti sindacati confederali eccetera eccetera io credo che abbiano un problema strutturale, cioè di cambiamento di pelle, cioè il fatto di essere diventati sostanzialmente delle grandi strutture di servizio. Non è nemmeno il tentativo di gestire le lotte, i conflitti in modo un po' meno radicale, no? Ma è proprio un cambiamento, cioè l'essere diventati o comunque diventare sempre di più, tranne alcune magari lodevoli eccezioni, di fatto delle strutture parastatali, no? Gli enti bilaterali, CAF, la roba là, no? Per cui di fatto purtroppo anche la base, come si dice, no? Che potenzialità ha di poter cambiare delle strutture elefantiache in cui la maggioranza degli iscritti sono pensionati, no? E quindi effettivamente c'è una lettura di questo tipo che, ripeto, purtroppo dobbiamo fare, così come purtroppo la sensazione appunto di rassegnazione, di risentimento che c'è in larga parte della società produce anche il fatto che i settori possono essere appunto rassegnati o comunque accettare diciamo un tipo di rappresentazione del mondo del lavoro e del non lavoro in questo modo, no? Abbiamo visto i provvedimenti che hanno fatto, adesso, no? Il decreto, quello del primo maggio, ha di nuovo riportato a tre anni la possibilità dei contratti a termine, il taglio della cancellazione sostanzialmente del reddito di cittadinanza, no? Cioè tutte misure volute fortemente dagli industriali, no? A fronte di questo però va bene, abbiamo visto qualche manifestazione, eccetera. Però il punto vero, diciamo, sulle cose che secondo me noi dobbiamo dirci è che quello che succede in Francia deve in qualche modo portarci a guardare a noi perché sarebbe troppo consolatorio pensare e dire che il problema sono sempre gli altri e la CGL che non fa le lotte, quell'altro così, e il partito di sinistra che non c'è, eccetera, eccetera. Perché se facciamo una lettura sociale, voglio dire, abbiamo un'inflazione spaventosa dovuta neanche come era 40 anni, 50 anni fa all'aumento dei salari. Ormai un'inflazione, lo dicono tutti, da profitti, neanche dovuta all'aumento dell'energia delle materie prime, appunto. Abbiamo un meccanismo di tutele sociali sostanzialmente inesistenti, dei salari bassissimi, però appunto come mai non c'è questa insurrezione sociale, questa insorgenza? E questo, diciamo, è un problema che noi ci dobbiamo porre, ma ci dobbiamo porre seriamente e quindi sapere che, appunto, anche noi come Adele Coba siamo un sindacato di base, ma siamo perfettamente coscienti anche dei nostri limiti, però anche, secondo me, del fatto che dobbiamo cercare, appunto, anche di non riprodurre sempre gli stessi schemi, perché anche nel sindacalismo di base a volte è solo in piccolo, ma i meccanismi sono sempre quelli, i meccanismi ideologici, della rappresentanza e via dicendo. E non c'è una vera volontà di promuovere le lotte, anche di rischiare, di rischiare anche a volte di perdere quel tuo orticello che hai, di provare a attraversare, a percorrere strade nuove, strade diverse. Sicuramente io credo che abbiamo la necessità, e su questo ne abbiamo discusso molto spesso con i compagni di Solidaire, di lavorare nei territori, nelle comunità, perché poi questo, ma se guardiamo non solo in Francia, ma io credo anche la grande insurrezione che è stata durante la pandemia negli Stati Uniti, dopo la cosa Black Lives Matter, eccetera, io credo che l'ossatura, lo scheletro, erano comunque le comunità auto-organizzate che succedono. Io non credo che la gente, anche adesso nelle banlieue o gli scioperi, arriva il sindacato radicale e che convoca lo sciopero e magicamente tutti vanno dietro. Sarebbe fin troppo facile pensare che qualcuno schiocca le dita e la gente è lì che aspetta. Va fatto un lavoro molto forte, molto lungo, molto radicale, però che richiede questo tipo di presenza, così come la relazione con gli altri tipi di movimenti, contaminarsi e farsi contaminare. Si è parlato dei gilets jaunes, di sull'avmento della terre, e non è scontato, perché nella narrazione ormai le lotte sindacali in Italia, a parte che dire sindacato è una bestemmia se vai nei posti di lavoro, veramente ti guardano male, ma anche su, l'abbiamo visto tante volte nei servizi pubblici, nella scuola, nel trasporto pubblico, eccetera, sembra che la lotta sindacale è qualcuno che vuole un po' il salario aumentato, no? E quindi poi chi se ne frega se la sanità o i servizi pubblici del trasporto non funziona, no? Quindi questa settorialità, quindi tutta questa narrazione che va invece assolutamente ricostruita, perché lo smantellamento delle comunità passa anche attraverso lo smantellamento dei servizi pubblici, la privatizzazione, no? Questa cosa incredibile che c'è tutta la retorica, la meritocrazia e via dicendo, che insomma, come dice uno, non certo, insomma, no? Come ha detto Bergoglio, è la legittimazione della disuguaglianza, no? Per cui io credo che questo sia sicuramente un lavoro molto grande che noi dobbiamo fare. E anche l'intersindacalità, anche tra sindacati di base, dove invece c'è una conflittabilità tremenda, ma va fatta a partire dalle lotte, dalle battaglie vere. Cioè non è una questione che si fa tra organizzazioni, tra i gruppetti dirigenti dei vari sindacati di base o non di base. Cioè è una cosa che significa volere davvero investire rispetto a questo. Per questo noi nel nostro piccolo stiamo cercando, oltre chiaramente alla gloriosa lotta dei lavoratori, della logistica, no? Ma anche di affrontare altri settori, anche qui a Scervo, di lavoro povero, le pulizie, le rete degli educatori o come è stato i lavoratori dello spettacolo durante la pandemia. Cioè anche inventarsi delle nuove forme di organizzazione, perché non è detto che il meccanismo sindacale si riproduce sempre su se stesso. E credo che la lotta della logistica, per esempio, ce l'abbia insegnato, perché io credo che sicuramente se tutti noi non fossimo partiti da questa nostra internità nelle comunità migranti, con tutte le lotte per i permessi di soggiorno, per la casa che sono stati fatti vent'anni fa, sicuramente poi quella stessa componente che è stata messa al lavoro, come è con i rifugiati adesso nei magazzini della logistica, poi non avrebbe trovato la forza di auto-organizzarsi. E questo io credo è la cosa che noi dobbiamo fare. E quindi, diciamo, io vorrei che il senso di questo dibattito è quello proprio di invece avere un meccanismo di possibilità. Ma è possibile, la Francia ci insegna che è possibile. E questo ovviamente però va fatto in tutte le direzioni, perché è vero che, diciamo, anche una parte dei movimenti a volte considera le lotte sindacali sul reddito, eccetera, quasi come se fosse un retaggio del secolo scorso. Dobbiamo dire che non è così, perché le forme sono diverse, le generazioni sono nuove, il mondo è cambiato, c'è una componente massiccia, migrante, che prima non c'era. E quindi che questo va ridato insieme a tutti gli altri dentro questo meccanismo di convergenza e di parità tra tutte le lotte, perché poi vediamo, giustamente, anche noi, la lotta femminista, le lavoratrici, eravamo qua ieri, delle pulizie, degli alberghi, e guarda caso sono tutte donne. E c'è un tema molto, appunto, di classe anche in questo tipo di lotte, così come la questione delle lotte ambientali, no? Per cui è ora di finirla con questa assurda contrapposizione. E quindi questo ci dice che è possibile, e che questo tipo di lotte vanno affrontate, secondo me, come invece una nuova scommessa di investimento complessivo da parte di tutti, perché la questione del reddito è troppo importante per lasciarla solo ai sindacalisti. da parte di questo tipo di lotte,